Un progetto pubblico privato per l'ospedale San Donato di Arezzo, l'annuncio di Tanti e Ghinnelli, possibile svolta nel futuro del nosocomio retino. Dopo numerosi contatti abbiamo in queste ore ricevuto una proposta concreta per avviare un progetto di complessiva ristrutturazione dell'ospedale San Donato. A dare l'annuncio sono stati il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinnelli e la sua vice Lucia Tanti. Una novità importante che potrebbe imprimere una svolta alla futuro della struttura sanitaria e che per la prima volta nella storia dell'ospedale di Arezzo vedrebbe scendere in campo un soggetto privato pronto ad accollarsi il 47% della spesa necessaria per la ristrutturazione, ovvero circa 70 milioni dei 149 milioni di euro necessari. Quanto basta per rinviare gli stati straordinari della sanità previsti per il prossimo 26 marzo e chiedere un confronto con il presidente della regione Eugenio Gianni per parlare di questa nuova proposta. Si tratta di un progetto pubblico privato che in questa prima fase mette in campo quasi la metà dei soldi che mancano, spiegano il sindaco e la sua vice e che potrebbe impegnarsi a compartecipare per la restante parte. La presentazione del progetto sarebbe recentissima. Dalle carte che abbiamo visto, dicono Ghinelli e Vice, questa prima tranche risponderebbe ad alcuni presupposti essenziali, tempi brevi di realizzazione, ovvero circa tre anni, completamento di un ammodernamento complessivo dell'ospedale a livello energetico, di sicurezza, di recupero manutentivo, la completa ristrutturazione della settore 1 e la definitiva edificazione della volano. Dando il via a questa prima operazione, contestualmente potremmo essere nelle condizioni di programmare la pianificazione di risorse per i settori 2 e 3, per i quali gli interventi non potranno che essere realizzati dopo la prima fase. Negli scorsi mesi avevamo ricevuto altri progetti, spiega la vice Tanti, ma questo ci è apparso più solido e realistico. È proposto da un partner toscano che si occupa principalmente di strutture sanitarie, Tanti non ne fa il nome. Ci è apparso un interlocutore affidabile e di esperienza, lo abbiamo personalmente incontrato più volte. Prima di dare una risposta, però, concludono il sindaco e la sua vice, è necessario presentare il progetto alla regione, ente che dal punto di vista istituzionale è punto di riferimento. Se la proposta sarà condivisa anche dalla regione, rappresenterebbe uno storico passo avanti verso il nuovo San Donato. Dalle ceneri del vecchio, concludono sindaco e vicesindaco.